Oggi mi sono svegliato con la mano in bocca Mi sveglio, apro il telefono Pieno di messaggi Pieno di immagini con su scritto un messaggio Messaggi che si riferiscono alla tragedia che è successa ieri sera Ormai ne sarete tutti al corrente Sicuramente qualcuno avrà già fatto video sopra questa questione Perché è giusto così, è giusto informare le persone Però per la persona che sono io ho bisogno di un attimo di riflettere Io ho riflettuto un attimo Mi sono svegliato con un magone addosso perché lì poteva esserci mia sorella Potevo esserci io O poteva esserci l'altra mia sorella Poteva esserci mio cugino Poteva esserci qualsiasi persona che conosco In caso non ne fosse al corrente cosa è successo? Ieri sera a Corinaldo in provincia di Ancona in una discoteca C'era un concerto di Sfera e Basta Non state a prendere di mira Sfera e Basta O prendere di mira Artista o Genere Perché è veramente stupido C'era un concerto di Sfera e Basta In cui ad un certo punto della serata Probabilmente sono stati spruzzati spray al peperoncino Quindi cosa è successo? C'è stato un panico totale Le persone si sono accalcate per uscire Alle persone mancava aria Le persone sono rimaste schiacciate sotto la calca E in tutto questo panico generale sono Decedute Sono deceduti 5 ragazzini dai 14 ai 16 anni E una mamma che era lì a accompagnare la propria figlia Assieme al marito Io non ce la favo veramente Io sono incredulo In questo momento raga io ho i brividi Ma ho i brividi veramente pesanti E non sono bei brividi Cioè sono veramente i brividi veramente pesanti Questo è un argomento che mi tocca particolarmente Perché questo? Perché io ho girato tantissime discoteche Ne ho girate veramente tante Troppe Troppe Ad età anche abbastanza precoce Qualche anno fa ho deciso di smettere di andare in discoteca Nel senso ci vado realmente molto di lato E se ci vado ci vado realmente per poco tempo Perché semplicemente quando ci andavo succedeva sempre qualcosa Ho una mini rissa Ho una spintonata Ho quello che ce l'ha con te a casa Ho quello che rompe i coglioni Ho quello che sta addosso Ho quello che rompe il cazzo alle tipe Ho quello che parte una scazzatata e colpisce una persona E involontariamente questa persona si fa male Da ormai un po' di anni non sto girando discoteche E quando ci giro mi succede sempre schifo Un po' perché sono conosciuto Un po' perché sono sfigato E un po' perché mi ritrovo sempre nel mezzo Quando non mi voglio mai ritrovare nel mezzo nelle cose Io sono una persona contro totalmente qualsiasi tipo di violenza E più sei in questo modo più ti ritrovi dentro queste cose E quindi questa è una cosa che mi tocca particolarmente Perché io ho deciso dopo anni di schifo che ho visto Ho deciso di tirarmi fuori da questo tipo di locale E non è giusto Non è giusto che io mi debba tirar fuori Perché qualcuno fa lo schifo lì dentro Non è giusto che le persone che erano ieri al concerto Abbiano vissuto questo inferno E non è giusto che adesso le famiglie ci debbano rimettere Un figlio, una mamma E che debbano convivere con uno shock del genere Perché ci sono anche cento e più feriti Dopo che succedono sempre queste cose Andiamo sempre a pensare chi è il colpevole C'è poco da dire Il colpevole è colui che ha creato questo disguido Ha creato questo attentato Perché questo a tutti gli effetti è un attentato E ovviamente la colpa è di questa persona o di queste persone Su questo non c'è dubbio In più in una maniera talmente vigliacca Cioè proprio da vigliacca Proprio alle spalle Perché purtroppo questa gente è così Vogliono fare i gradassi Vogliono fare i fichi Andando a fare la bravata Però lo fanno alle spalle Perché non lo fanno in faccia Lo fanno alle spalle E poi quando creano il danno Si tirano indietro I fichi non sono più fichi Si tirano indietro Quando vai a chiedere chi è stato Si tirano indietro Poverini A mio modo di vedere Possono essere stati ragazzini Gente che voleva rubare Perché siamo arrivati a questo Si spruzza lo sparare il peperoncino Per rubare nei locali Cioè quando le persone sono in panico Te vai pure a rubare Vai a fare la bev Proprio vigliacchi Se vuoi fare il grosso Il gradasso Che ha fatto la bravata Bene Fallo Ma perché poi ci si tira indietro Quando Vai a chiedere chi è stato Prima si fa la cosa Ci si fa la risata Si lide Ah 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 E poi il culo stringe E queste cose qua Vengono sempre fatte in modo vigliacco E alle spalle Perché state tranquilli Una cosa del genere In faccia non la fa mai Mai Che i ragazzi di oggi Nascano con un'educazione A parer mio Diversa Rispetto a quella che abbiamo avuto Noi O chi ha avuto prima Sono d'accordissimo Però ci sono anche tanti ragazzi Genuini Che volevano semplicemente Cadersi in concerto In compagna del proprio idolo A me queste cose creano Rabbia Ma soprattutto delusione La misantropia Probabilmente È la prima cosa Se mi dovessi descrivere Però ci rimango lo stesso deluso Rimango lo stesso deluso Da Da questi avvenimenti È incredibile È incredibile Queste cose Non devono succedere Io non vado più in discoteca Ma non è giusto Che io non vada in discoteca È brutto da dire Ma si sa Che le discoteche Ahimè Spesso e volentieri Sono posti in cui Ci vanno persone del cazzo E non è giusto Che le persone Si debbano privare Di una cosa del genere C'è da dire Che la colpa è Il 99% Delle persone Che hanno creato Questo casino Però forse Un 1% Di colpa Lo darei assolutamente Ai locali Del cazzo Succedono casini E poi si viene a scoprire Sempre che il locale Ha venduto Il doppio Dei biglietti consentiti Perché è così Che si fanno le tragedie È così che si chiudono Le persone Porco Io mi chiedo Ma i proprietari Delle discoteche Io capisco Che i soldi Sono la prima cosa Per tutti Per tutti E dici Ah vabbè Ma non ci sarà mai un cazzo Ma qualsiasi cosa succede Qualsiasi Anche se uno butta Una bottiglietta d'acqua E crea panico Minchia Ma non ci pensi È vero che le norme Sulle discoteche Sono estreme I mezzi locali Sarebbero completamente vuoti Se dovessero seguire Le norme E probabilmente Ci rimetterebbero Però cazzo Tieni le vie di uscita Tieni le butta fuori Se puoi permetterti Nel tuo locale Di far entrare 800 persone Non ne puoi far entrare 1400 E questa è un'altra cosa Che ho sempre odiato L'ho sempre odiata Le discoteche Questo è uno dei motivi Per cui io Ho smesso Di frequentare questi post Vi invito a sfruttare Questa giornata Per riflettere Vi invito a riflettere Su questo accaduto Vi invito a riflettere Sul fatto che Potevate esserci voi E prendete questo giorno Come una giornata di lutto Per questo è una tragedia E non meritano Soprattutto di essere Dimenticati i ragazzi Che sono deceduti Grazie a tutti Grazie a tutti